È stato fatto da parte di molti locali il richiamo di una polizia privata o di una security, ma a parere nostro è un modo per sganciare le responsabilità e per dire noi abbiamo questa security e quindi non può succedere niente. No, non è questo a parere nostro il modo, ma è cercare attraverso la fine di questa vendita di alcol low cost, quindi è cercare di non richiamare un tipo di persone che può appunto degenerare queste cose in una confusione totale e comunque siamo a favore di una pattuglia di vigili fissa magari qui in piazza che stia a controllare. La situazione sta andando per quanto riguarda il mio locale, i locali che fanno parte del comitato, dei commercianti di piazza dell'Avadia via Cavour direi abbastanza bene, è una situazione tranquilla, la movida è buona e di buona qualità, però chiaramente ci sono dei problemi che non riguardano per forza i clienti nostri o nemmeno per forza dei locali di piazza dell'Avadia e nemmeno delle altre piazze, spesso e volentieri diciamo che i problemi sono dati magari dai giovanissimi che comprano l'alcolico diciamo in bottiglia dal supermercato o dai vari negozietti che lo vendono a bassissimo costo. Per questo ci schieriamo anche e ci tendiamo a far sapere che all'interno del nostro comitato non ci sono i locali che vendono i cosiddetti alcolici low cost di bassa qualità, non li abbiamo fatti entrare, ci rifiutiamo, siamo completamente contro perché siamo a favore della campagna a bere responsabilmente e soprattutto bere bene. Abbiamo portato la movida buona in questa piazza con molto piacere e ci crediamo e crediamo che nei prossimi anni ci possa essere sempre più movida buona, compresi i turisti, la frequentazione di persone anche di maggiore età, di mezza età, che sono chiaramente più tranquille e comunque anche i ragazzi, quelli bravi, sono a posto, non fanno assolutamente nessun tipo di confusione. La grande confusione è accaduta dalla chiusura delle discoteche, sicuramente terminerà con la riapertura, questo vogliamo dire.